Va a finire che una volta provato il cd, l'ho acceso, l'ho attaccato nel piatto stereo e suonava di cacca. Una cosa terrificante, proprio inascoltabile, orribile. E questo mi fa capire che c'è qualcosa che non funziona. Quindi siamo di nuovo da capo in laboratorio e siamo nel banco di test. Bisogna capire dov'è il problema. Come sempre, cominciamo dalle alimentazioni. Come avete visto dal pannello posteriore del cd player, ci sono veramente tanti regolatori di tensione. E ce n'è uno che dà una tensione strana, che non è quella che dovrebbe essere. Invece di non dare la tensione che deve dare, non ha al suo ingresso la tensione che dovrebbe esserci. Dovrebbe esserci meno 31 volt, invece ce ne sono meno 18. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Adesso bisogna capire dov'è il problema. La verità è che questa parte di alimentazione ha un circuito piuttosto curioso dentro, che si vede nella parte in basso, dove c'è il regolatore negativo che deve dare meno 18 volt, che prima ha un incrocio di diodi e condensatori che è conosciuto come duplicatore di tensione. I condensatori da cambiare sono quelli marchiati nel circuito elettrico 2290 e 2291. Purtroppo, nonostante le piastre degli stampati siano tutte belle evidenti, cambiabili, rimovibili e così via, l'unica parte coperta, nascosta, è quella dove c'erano qui due maledetti condensatori lì, che è un montante in alluminio, un pezzo in alluminio del telaio, che racchiude la parte di alimentazione. Si vedono spuntare le cappelle dei grossi condensatori di stabilizzazione, di raddrizzamento, di livellamento, e quei due condensatori lì, porcaccia la paletta, sono proprio sotto quel ponte di alluminio, per cui non vi dico la fatica per toglierli, per rimetterceli senza smontare tutto lo stampato, perché con tutte quelle viti che ci sono, mi era un po' passata la voglia. Comunque, cambiati quei condensatori lì, è tutto tornato a posto e adesso funziona anche una meraviglia.